Il San Ponzio, a destra dell'altare, è il dedicatario della cappella. Si tratta di San Ponzio di Cartagine, morto dopo il 260 d.C. e discepolo di San Cipriano. L'affresco è databile tra fine X e inizio XI secolo, e nonostante un utilizzo ridotto della tavolozza di colori, mostra nella fascia superiore una buona capacità decorativa. Il santo è raffigurato con la carnagione scura, nell'atto di mostrare un'ostia consacrata e un libro chiuso. Indossa un ricco piviale rosso, bordato d'oro. Accanto a lui, sulla sinistra, si scorge la figura di un monaco con la lettera B, che è stata identificata con San Benedetto. Questo testimonia come proprio i monaci benedettini furono tra i primi artefici della rinascita di molte terre nella valle del Tanaro e nel Roero, negli ultimi decenni del X secolo. Anire la piano a la parola delle Arts. Grazie a tutti.